Tempesta d'amore Tempesta d'amore, trame tedesche, una storia clandestina Anticipazioni Tempesta d'amore, puntate straniere, il tranello inaspettato. Tempesta d'amore si avvicina alla fine della dodicesima stagione in Italia. Presto Adrian e Clara saluteranno la SOP per lasciare spazio a nuovi personaggi. . William sarà al centro delle prossime puntate di Tempesta d'amore. Il figlio di Susan sarà protagonista di un nuovo triangolo amoroso, che lo vedrà indeciso tra Ella e Rebecca. . . Le due ragazze, che hanno messo piede da poco negli episodi italiani, prenderanno il posto lasciato vuoto da Clara, la protagonista femminile della dodicesima stagione. William però non sarà l'unico personaggio maschile a colpire il pubblico di Rete 4. . Presto farà il suo ingresso al Furstenhof Victor. Il giovane, figlio di Shristoff Saalfeld, nuovo azionista dell'hotel e parenti di Charlotte, dovrà fare i conti con tranelli inaspettati. . Il ragazzo infatti arriverà al Furstenhof per chiedere aiuto al padre. Victor sarà intenzionato a compare un cavallo per avviare la sua attività. . Shristoff però non solo negherà ogni aiuto al figlio, ma lo ostacolerà. Lo scontro padre e figlio pennellerà le puntate tedesche della SOP tedesca. . . A complicare questo difficile rapporto ci sarà anche Alicia, una donna che ruberà il cuore al giovane Salfeld. I due inizieranno una relazione clandestina. Tempesta d'amore, puntate tedesche, la grande delusione. . Le anticipazioni di Tempesta d'amore svelano che ad aiutare Victor ci sarà il fratello Boris. Il ragazzo fornirà il denaro necessario per acquistare il puro sangue tanto desiderato. . Il sogno di Victor però si infrangerà molto presto. Shristoff infatti riuscirà a soffiare il cavallo al figlio in modo del tutto inaspettato. . Come reagirà Victor al colpo basso del padre? Dopo un nuovo inizio a Tempesta d'amore per uno dei personaggi principali della SOP, a complicare la situazione ci sarà anche un colpo di fulmine che rischierà di turbare ulteriormente il fragilissimo rapporto tra padre e figlio. . Victor infatti si innamorerà di Alicia, una dottoressa che presto arriverà al Furstenhof. Il giovane però dovrà presto mandare giù un boccone molto amaro negli episodi tedeschi di Tempesta d'amore. . La donna di cui si è innamorato a prima vista è in realtà legata sentimentalmente proprio al padre. Alicia cercherà in tutti i modi di far riconciliare Shristoff e Victor. . Riuscirà nell'intento? Il giovane Saalfeld riuscirà a reprimere i suoi sentimenti per la fidanzata del padre oppure si lascerà andare alla passione, vivendo una relazione clandestina con Alicia? L'appuntamento perciò con i drammi di Tempesta d'amore è tutti i giorni, dalle 19.50, su Rete4. . .